Sono convinto che almeno una volta all'interno della community di League of Legends ognuno di voi avrà sentito o letto o scritto anche le seguenti parole Ma perché Riot fa questa cosa? Dovrebbe concentrarsi a fixare il matchmaking? Ma perché Riot fa questa skin deluxe? Il matchmaking fa schifo Ma perché Riot fa questa skin quando dovrebbe concentrarsi a rimediare a Clash? E così via Ci sono mille interpolazioni diverse di questa stessa identica frase e constatazione Dicendo ma perché Riot si concentra su questo piuttosto che fare quello? In pratica è il classico modo di dire eh ma questi non sono i problemi che vanno risolti Li so meglio io Ora tutti siamo stati vittime di questa cosa O in modo indiretto perché l'abbiamo subito passivamente leggendo le persone che facevano questi post Capisco la frustrazione di non avere quello che si vuole È normale, è umano Però almeno proviamo a farlo con un po' di logica da ora in poi L'idea, l'intento di questo video è questo Provare a mettere un po' di logica in queste conversazioni Perché mi farebbe piacere anche discutere più spesso con la community Ma se poi si batte contro un muro e cemento non c'è molto da fare E non è una questione di aver torto ragione Queste sono questioni di gusti Ovviamente ognuno preferirebbe che si concentrassero sulla parte che gli sta più a cuore Per quanto mi riguarda magari un paio di reworking grafici in più mi farebbe piacere Ma ho finalmente modo di dare un contesto sensato a quello che fa la Riot Perché un Rioter ha deciso di condividere con il mondo il modo in cui è strutturata Riot Che poi quando uno finisce a leggere dice Ma è come ogni grande ditta internazionale? So, per alcune persone sono cose ovvie Anche per me questa è un'ovvietà perché ho avuto opportunità e possibilità di vedere e vivere Come si lavora all'interno di una grande azienda E di capire un po' il funzionamento di fondo Il perché funziona questo modo Tanti altri invece non hanno avuto l'occasione Magari questa esperienza mancante purtroppo li limita nel comprendere Come Riot può affrontare i problemi che ha Però prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale Buttare un mail mi piace se vi piace il video ovviamente alla fine E condividerlo magari con i vostri amici che so che tiltano per queste cose Quindi di sicuro gli fa bene che ascoltare questo ragionamento Non perché sia giusto Ma perché almeno possiamo discuterne in maniera civile Allora un po' di contesto Chi è Jordan Checkman? Jordan Checkman è un Senior Experience Designer di Riot Games Che cosa significa questa cosa? Jordan Checkman in pratica è la persona che si mette là a guardare A leggere tutti i feedback di tutte le community che gli arrivano Da ogni nazione Lui cerca di fare una somma delle cose sulla quale la Riot dovrebbe lavorare Perché dice ah guardate ragazzi Tutti ci stanno dicendo che il fatto che la partita si chiuda E c'è la schermata di caricamento invece di poter fare l'honor subito È qualcosa che gli dà fastidio Forse dovremo concentrarci su questo Lui sono le sue parole per dire che cosa succede e come funziona Riot E lui dice c'è questa convinzione online sulle community Su Reddit, su Facebook, sui social, sui gruppi Telegram Che per ogni feature o bug La Riot dovrebbe essere in grado di creare o riparare il problema facilmente Perché Riot è una grande compagnia con persone di talento O comunque ha i soldi per potersi permettere persone di talento E spiega perché questo non è vero E dice la Riot è molto molto grande E quindi tende a poter avere il lusso di poter prendere persone di talento Persone capaci, persone che hanno una grande esperienza Persone che hanno dimostrato più e più volte Di aver fatto robe con i controcoglioni Questa parte dice è vera Effettivamente abbiamo i soldi per poterle pagare E infatti dicono e facciamo anche una grande quantità di soldi Perché comunque sono una ditta che fa miliardi Direi che possono permettersi di dire anche abbastanza tranquillamente Sono bravi in quel che fanno Ma il motivo per cui non tutto è possibile Si separa in due motivazioni specifiche Il separation of concerns Che è la separazione dei problemi Delle problematiche da risolvere E l'opportunity cost Il costo e l'opportunità Arriviamo con calma ognuno La separation of concerns È come una grande compagnia funziona Cosa significa? Una persona che si concentra a fare le skin Lui ha imparato a fare i modelli 3D alla perfezione Bravissimo Ovviamente quello che lavora i modelli 3D Non lavora i server Non lavora a programmare Non lavora a fare design di altri tipi No, lui fa i modelli 3D Ognuno è specializzato all'interno dell'azienda E fa quello che deve fare Non deve fare più di quello che deve fare Per esempio il tizio dei server Non lavora l'interfaccia utente Ma potete portare questo concetto avanti all'infinito Immaginate che ci fosse una feature Una funzionalità Che vorreste all'interno del Clash Su League of Legends League of Legends è una parte piccola di Riot Per quanto questo può suonare assurdo League of Legends Adesso che Riot è diventata multigioco Ci sono tante persone Sì Ma ognuno ha un suo ruolo Ognuno è separato nella sua divisione Per così dire Per quello di League of Legends ci sono diverse centinaia di persone Non specifica quante E lui dice Per fare l'esempio del Clash Clash è parte di un'iniziativa del gameplay Quindi dobbiamo entrare nel gruppo di League of Legends Bene Il sottogruppo che si concentra su Clash È il gruppo che si dedica al gameplay Che sono circa 100 persone Il team al di sotto delle persone di gameplay Che si concentra su Clash Sono 20 persone Lui dice All'incirca 20 persone Le persone che sono direttamente responsabili Di ciò che succede con il Clash Sono all'incirca 5 persone Perché? Perché ogni singola sezione Più si scende nel dettaglio E più la responsabilità Non è spalmata tra tutti quanti Ma su poche persone specifiche Per quale motivo? Perché così ognuno si può concentrare A fare bene quel lavoro E ha una conoscenza in merito all'argomento E uno potrebbe tranquillamente dire Eh ma scusa ma se spalmano la responsabilità su più persone Possono fare più cose Sì e no E infatti lo spiega subito dopo E queste persone lavorano su più che semplicemente Clash Quindi non è che non lavorano anche ad altro Hanno delle responsabilità specifiche per il Clash Ma lavorano anche ad altro Quando tu immagini perché la Riot non smette di fare skin E fa questa feature del Clash È perché non sono le stesse persone che fanno questo stesso lavoro E uno può dire Lapo ma è ovvia sta cosa È banale come cosa Perché ce la devi spiegare? Perché non tutti lo sanno E dare per scontate certe cose è sbagliato E le persone che fanno le skin Lui dice Potrebbero anche imparare a farlo Ma ci vorrebbe molto più tempo A confronto con le persone che sono specializzate nel farlo Per quale motivo? E lo spiega subito dopo Perché devono prendere e ottenere tutte le informazioni Riguardante le scelte di design Le scelte ingegneristiche a livello informatico Le scelte artistiche Il contesto del prodotto E poi dovrebbero bloccare tutto quello che fanno Cosa significa questo? Ogni team ha delle idee chiare e ben specifiche Su quali sono i valori di un progetto Le cinque persone responsabili del Clash Sono quelle che continuano a portare avanti la responsabilità del Clash Ma hanno un vantaggio sugli altri Tra virgolette Perché loro sanno Uno, qual è la direzione artistica scelta Perché abbiamo scelto questa direzione artistica per il Clash Due, perché abbiamo scelto questa direzione ingegneristica per il Clash E per quale motivo si può fare certe cose e certe no? Tre, per quale motivo il design del Clash è fatto a questo modo? Perché funziona che tu vieni eliminato soltanto dopo due partite invece che soltanto una E così via, e così via In pratica ogni singola scelta di un progetto Che sia il Clash, che sia un evento, e così via Ha delle scelte ragionate di design, artistiche, ingegneristiche Che portano ad avere un contesto totale Se tu arrivi dall'esterno di quel contesto Prima di poter mettere le mani sul progetto Cosa fai? Intanto togli il gatto E dopo aver tolto il gatto Devi chiedere Qual è il contesto di questo progetto? Quali sono le informazioni che devo avere Per poter ragionare all'interno di questo progetto? Cosa possiamo e non possiamo fare? Solo dopo quel punto Che sai tutte le cose che sono necessarie Per poter lavorare su quel progetto Allora puoi effettivamente elaborare una strategia E mettere in atto un lavoro Uno verrebbe da dire Perché il team del Clash non fa questa feature per il Clash? E spiega l'opportunity cost Ogni team ha una grande lista di opportunità Di cose che deve scegliere da fare E sulla quale deve concentrarsi e dedicarsi per lavorare La lista è lunghissima È mostruosamente lunga Di opportunità e bug sulla quale devono lavorare Perché ovviamente il gioco non è che Non è programmato alla perfezione da un cyborg Ma da degli umani E a volte le cose si bug Ma ogni volta che lavori su un'opportunità O su un bug Vuol dire che non stai lavorando su qualcos'altro E questo è l'opportunity cost In pratica devono fare la scelta Di su che cosa lavorare Se risolvere un bug Che magari fa crashare il client Quando apri il Clash Oppure se mettere una feature Per metterti in coda da solo Per il Clash Per trovare un team Perché poi è una cosa che è stata aggiunta Ma il senso è che all'inizio non c'era Perché? Perché era più importante Che il Clash funzionasse in maniera corretta E poi possono pensare alle aggiunte E così via E così via E lo stesso discorso si può applicare Ad ogni singola tematica Tematiche di bilanciamento Tematiche di skin Tematica di marketing Tematica di annunci Eccetera 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 Ci sono certe persone E uno può dire Ma allora assumi più persone Sì Ma dovresti prepararle Creare il contesto Addestrarle nel modo in cui fare E ogni singolo team Ha una grande lista di opportunità E bug Sulla quale vogliono lavorare E dicono E dice Questa è una semplificazione ovviamente I team hanno Molteplici persone E possono affrontare Molteplici cose Alla volta Ma cos'era questo Se cinque persone Su About five people And hundreds of potential things to work on Quindi ci sono cinque persone Per il Clash Per mantenere sempre l'esempio andante Con centinaia di cose Che vanno invece affrontate E quindi Devi dare priorità A certe cose Piuttosto che altre E queste Priority call Questa scelta di dare priorità A una cosa Piuttosto che un'altra Sono invisibili a noi giocatori Perché uno dice Ma scusa Ma se Questo è più importante per me Di un'altra funzione Che io non conosco Che mi frega Io voglio questa cosa Chiaro Dice Ma tante cose sappiamo Di solito Sono basati sui fattori Per i bug Quanto spesso avvengono Quanto sono gravi Quanto sono vecchi questi bug L'impatto che hanno Quanto ci vuole Il costo per riparare questi bug Non costo monetario Costo di tempo Di lavoro Di sforzo Di persone che devono affrontare il problema E per le feature Quanto è importante questa feature Nel senso Quanto è buona La sua complessità Dipende ovviamente Da quello che vuoi inserire come feature E il costo Dell'inserimento di questa opportunità È il motivo per cui Hanno spiegato più e più volte Come mai Gli eventi secondari Gli eventi quelli Con delle modalità di gioco Molto strane Saranno più difficili A proporre Per quale motivo Perché Si sono resi conto Studiando più e più volte Su più e più eventi La gente di solito Dopo 5 giorni Smette praticamente Di giocare Alla modalità di gioco alternativa Sì È divertente per 5 giorni Ma se poi ci hai messo 3 mesi e mezzo Per farlo Non è esattamente Il modo migliore Di usare il tuo tempo Ora Uno può avere 100 cose Da criticare qua E da attaccare Lo capisco Però Se io devo Leggere questo contesto E dire Guarda Non hanno fatto questo Perché non l'hanno fatto Almeno si sa il perché Sono cose che All'interno di League of Legends Che Non succedono Che vorrei anche io Presente all'interno del gioco Ma non possiamo Mettere in atto Con Con Questo Piccolo dettaglio Questo asterisco finale Che mi ha intrigato un sacco Quando l'ho letto So perfettamente Perché Succedono queste cose E So perfettamente E sono emozionato Sul perché Non stiano succedendo queste cose E dice Sta arrivando Roba emozionante Ora Io Non so che cose intenda Più che altro Perché se per Se per fare l'esempio In League of Legends Lui mi dice Guarda Stanno arrivando cose fighe E so per quale motivo Tante cose che volevamo fare Non potevamo farle prima Ma sta per arrivare qualcosa di figo Che ci permetterà di farlo Allora Forse Forse Un Dubbietto Mi viene a pensare Magari Magari Sono resi conto Che il client fa veramente cacare Sarebbe l'ora di farlo a zero Sarebbe bello Io Spero E avevo anche commentato sotto al post stesso Che avrei usato questo post Per parlarvi di questa cosa E mi sembrava giusto rendervi partecipi Signore e signori Questo è quanto per questo video E noi Ci vediamo Al prossimo